ragazzi buona serata a tutti allora innanzitutto mettete in piace video prima cosa a fare per supportare ovviamente gratuitamente il canale e per rincuorarci insieme a vicenda per la non vittoria di oggi che è più una sconfitta con una vittoria ovviamente un pareggio quindi hai perso due punti perché comunque è tutto pomeriggio quei flashback del gol mangiato Iulavic delle due occasioni di Douglas Maners dei rigori di Douglas Lewis ce li ho ancora qui piantati quantomeno rispetto agli anni passati non attacchi tanto appunto neanche perché come dicevo gli anni passati un conto è sei quattro cinque occasioni e le sbaglio un altro conto se ne è una e mezza e devi sfruttare solo quella poi dipende sempre la situazione che c'è insomma vabbè comunque partiamo dal finale nostro oggi almeno è stato dato un rigore il primo che veramente io devo capire come sono messe le cose come come boh non so come gestite come arbitrate qual è l'equità qual è il regolamento perché ognuno lo interpreta come cazzo vuole perché il fallo là il primo rigore che è una toccatina per me non è superiore alla toccatina che c'è stata su consensao sì lui avrà guardato l'arbitro avrà rotolato di più quello che vogliamo ok però per me la toccatina è quella solo che a uno gli hanno dato rigore all'altro gli hanno dato il giallo per simulazione e quindi conseguente rosso e che io tornerei un attimo sulla partita di oggi con consensao e penso che sia anche una questione di frustrazione a quel punto con consensao che subisce 377 falli e vedi i propri avversari anche per falli tattici non essere ammoniti cioè questo è quello che dà fastidio ai giocatori non tanto il rigore non dato e queste cose qua dà fastidio la disparità di trattamento durante la stessa partita dallo stesso arbitro con due metri di giudizio completamente diversi punto questo dà fastidio ai giocatori e oggi si è avuta questa sensazione qua ovviamente non è che abbiamo non vinto per l'arbitro perché noi io quantomeno ho analizzato quello che non è andato certe sostituzioni io non le avrei fatte fossi stato motta gli errori dei nostri giocatori quindi noi oggi non abbiamo vinto per colpe solo ed esclusivamente nostre però qua è anche ora di finirla che sia in campo sia nell'extracampo qua la parità mi pare che ognuno si faccia una propria parità che vuole ecco io questo vedo ripeto io non penso mai alla mala fede penso solo alla scarsezza degli arbitri questo sicuramente e oggi si è visto tranquillamente purtroppo buttare fuori il consenso in quella maniera lì significa che a parte che gli arbitri la maggior parte non tutti ma gli arbitri sono permalosi e arroganti e là è stato proprio un gesto di arroganza e presunzione dell'arbitro è andato là subito col giallo poi si lamentano si lamentano gli arbitri si lamentano ma lasciamo stare lasciamo stare perché è serie A è serie A dove si è tutti no con con bisognerebbe tornare ad arbitrare in categorie per poi vedere no ma va bene va bene comunque a parte questo perché poi è l'episodio no di oggi del miran io adesso non so se era se era reinde o qualcuna altra se non mi ricordo però è l'episodio lì no bene toccata toccatina rigore vabbè detto questo detto questo al di là appunto dell'episodio che bisognerebbe spiegarlo no non stiamo qua a parlare a dire a fare però bisognerebbe un attimo spiegare perché certe cose vengono giudicate in una maniera e certe altre in un'altra l'anno scorso mi pare Lautaro Martinez per una cosa simile a quella di Consensao lui invece a lui gli hanno dato il calcio di rigore ma va bene io ripeto poi gli interisti napoletani ovviamente non tutti ma la maggior parte sono fratelli gemelli praticamente e quindi hanno gli stessi ragionamenti del cazzo vabbè con un altro discorso vabbè andiamo avanti noi non stiamo qua a lamentarci come fanno loro però è giusto per parlare di della dell'equità che poi se noi stiamo zitti poi quando avremo un favore se lo ricorderanno sempre no allora bisogna anche ricordare quando abbiamo degli sfavori arbitrali se no qua non è più finito detto questo oggi non abbiamo vinto per colpe nostre soprattutto di chi ha sbagliato i gol perché va detto questo è di Douglas Lewis Motta ha sbagliato a mettere in capo Douglas Lewis e alle varie Locatelli soprattutto noi non sentiamo la mancanza di Bremer noi sentiamo la mancanza con Bremer o meno di Locatelli davanti alla difesa adesso in questo momento qua i due centriampisti imprescindibili per la Juventus sono Locatelli appena avanti alla difesa e McKennie nessuna tre quarti che piaccia o non piace così anche perché McKennie in fase non possesso danno una mano proprio a Locatelli questo è il problema in questo momento qua quindi puoi anche superire all'assenza di Bremer con questi due giocatori titolari adesso detto questo perché danno una mano a Calurio e Gatti detto questo le avversarie le nostre avversarie no allora il Napoli ho visto secondo un tempo e ha vinto per inerzia al primo tempo mi è stato raccontato di un Como dominante tra virgolette a Napoli l'Inter ha vinto 3 a 2 in 11 contro 10 per tutta la partita praticamente ha faticato ha faticato ha rischiato di mettercela di nuovo in gioco e ha vinto 3 a 2 contro il Torino il Milan oggi va a perdere a Firenze la Lazio ha vinto in rimonta contro un Empoli che non è da sottovalutare lo ripeto secondo me è stato sottovalutato un po' troppo l'Empoli e la Roma pareggia 1 a 1 a Monza questo sta a significare il Bayern parliamo anche dell'Europa il Bayern Monaco che poi va a pareggiare 3 a 3 si fa rimontare all'ultimo minuto dal Francoforte che adesso mi pare sia pari punti in Premier è vero che hanno più punti di noi per carità ma là sono anche più squadre di noi rispetto a noi che abbiamo rivoluzionato Rosa allenatore filosofia calcistica cioè noi quest'anno abbiamo rivoluzionato tutto loro comunque se non è allenatore comunque hanno tenuto l'assetto strutturato la filosofia calcistica non è cambiata tantissimo da Klopp a Slott faccio esempio a Liverpool da Xavi faccio esempio a Flick al Barcellona ha aggiunto intensità tedesca al gioco di palleggio spagnolo sicuramente ma comunque è sempre un calcio più positivo una filosofia comunque simile quindi va detto questo magari modi diversi di giocare però la filosofia e la mentalità è quella il City con Guardiola chi lo sta guardando sta notando che comunque sta avendo molte più difficoltà del dovuto anche a battere il Fulham di turno che il Fulham ieri ha creato parecchio contro il City quindi io vedo il Real Madrid che vince a fatica nonostante sia la squadra più forte del mondo l'unica squadra è il Barcellona che sta facendo bene sta facendo bene però appunto a parte l'annatore per il resto hanno una mentalità ben consolidata da decenni una filosofia ben consolidata e i giocatori sono rimasti più o meno quelli noi abbiamo cambiato tutto tutto di tutto quindi però a parte il Barcellona io vedo che tutte le squadre in Italia e in Europa soprattutto quelle che giocano le coppe stanno faticando molto stanno faticando molto in questo inizio di stagione a livello fisico a livello atletico a livello tattico a livello mentale a a volte hanno dei cali e sono squadre che per lo più comunque sono più rodate rispetto a noi ok noi abbiamo tanti difetti perché anche oggi abbiamo visto anche fasi in un possesso qualcosina la dobbiamo limare per non rischiare sempre così tanto soprattutto perché i reparti si sfilacciano ogni volta verso la fine della partita soprattutto se siamo ancora in bilico e cerchiamo di chiudere la partita non va bene così perché è successo così con l'Ipsi e è successo anche oggi col Cagliari e poi oggi ti è andata male ma non è per quello non è che hai preso un gol in contropiede, hai preso un gol per una stupidata di due assurdi per il resto tornando qui in Italia ripeto il Napoli non è che abbia... cioè il Napoli ha vinto delle partite e per questo io dico che il Napoli scom'è allora l'Inter è la favorita perché è la squadra meno scarsa in totale in generale ma il Napoli scom'è vince lo scudetto proprio perché ha una partita a settimana a preparare Conte è molto bravo nei dettagli quindi sa preparare la partita dal primo al 95esimo anche se al 50esimo e sotto i due gol non è mai finita con Conte quindi con Conte lo sappiamo benissimo anche noi perché a Napoli da 3 a 1 siamo passati a 3 a 3 l'anno del primo scudetto quindi Conte è questo mentre le altre purtroppo per fortuna perché per fortuna perché giochiamo le coppe giocano le coppe anche le altre i dettagli purtroppo ogni tanto possono passare diciamo inosservati tra virgolette e sotto va anche sotto questo aspetto qua nel senso che possiamo ogni tanto avere dei blackout anche il Napoli lì ha attenzione però loro recuperano subito perché comunque stanno sempre sul pezzo noi invece avendo la coppa avendo il campionato i blackout a volte succede che non riusciamo poi a riaccenderli e quindi questa cosa qui può e poi bisogna dire che la Juventus a differenza delle altre ha un allenatore che è la prima volta che ha due competizioni, tre competizioni, campionato e Coppa Italia e Champions League ma mettiamo soprattutto campionato e Champions League ha molti giocatori che per la prima volta giocano una volta ogni tre giorni ha una preparazione diversa ovviamente rispetto a quella del Napoli però ha tutto nuovo cioè noi in quest'anno siamo la novità molto di più rispetto al Napoli che comunque giocano un'altra settimana molto di più rispetto all'Inter, rispetto al Milan, rispetto a tutte le altre siamo la squadra più rinnovata tra virgolette quindi è normale purtroppo avere molte più difficoltà rispetto alle altre ma nonostante ciò ripeto non mi sarei mai aspettato di arrivare a questo punto all'inizio dell'ottobre e vedere queste cose molto positive che vedo poi ci sono tante cose sicuramente negative da limare ripeto e per carità lo dico questa cosa qui nonostante io veramente stia male tra virgolette ovviamente sportivamente parlando per la non vittoria di oggi perché adesso abbiamo due settimane, due settimane di merda perché quando vinci vorresti che le settimane ci fossero due settimane cioè la pausa te la godi al pieno se non vinci diventa due settimane di merda c'è poco a fare che poi arriverai contro la Lazio poi c'è lo Stoccarda poi c'è l'Inter poi c'è il Parma poi c'è l'Udinese quindi diventerà veramente impegnativa soprattutto le prime tre partite quindi speriamo che a livello mentale riescano a riacquisire un po' di energie mentali ecco i nostri giocatori e continuità mentale soprattutto per certi versi può anche fare bene questa non vittoria nel senso che dopo l'Ipsia oggi mi hanno dato la sensazione nonostante avessero creato tanto rispetto al solito mi hanno dato la sensazione di essere veramente supponenti superficiali, supponenti quant'altro ma questo è un discorso che faremo domani con il giorno dopo era giusto per parlare delle altre le altre non mi danno chissà che sicurezza l'Inter prende tanti gol il Milan lo stesso io non lo sapete non sono uno che è legato molto alla fase ossessionato alla fase difensiva però sono sicuro che per fare bene devi avere sia una fase difensiva buona sia una fase offensiva buona con l'altro non avevi nessuno delle due ma quello è un altro discorso e quindi in questo momento qua le due che sembrano più equilibrate sono tra l'altro sembrano ripeto Napoli e Juventus lì davanti ma la Juventus ha molti punti di domanda perché avendo una partita ogni tre giorni non possiamo far giocare sempre gli stessi in questo momento qua quelli che dovrebbero subentrare anzi quelli che sarebbero dovuti partire titolari inamovibili come Douglas Lewis e Turam partono da riserve e quando giocano al posto del Locatelli di turno del Meccanico di turno e quant'altro non danno le stesse garanzie per di più aggiungiamoci che ci vuole un qualcosa di in più anche sugli esterni per cercare di fare gol sugli esterni per cercare di mandare in porta più persone più giocatori e non solo Vlaovic e Kupmanes sta deludendo molto in questo inizio di stagione non è deve sbloccarsi anche lui un po' mentalmente speriamo che con un gol si sblocchi anche lui e sono tutti giocatori che devono sbloccarsi magari una volta che si sbloccheranno veramente sta squadra inizierà a girare a piano regime questo speriamo lo speriamo tutti però questa in questo momento qua è la situazione del nostro campionato cioè in questo momento qua il Napoli tra tutte le altre è la più solida è la più equilibrata nonostante ripeto non faccia che sacchia prestazioni perché ha rischiato tante volte ma anche se il Napoli va sotto di uno o due gol contro una squadra del cazzo o anche contro una squadra forte in Italia e con Conte non è mai detta l'ultima parola te la può recuperare te la può rimontare te la può ribaltare quella partita perché ha solo quello sul quale puntare quindi ogni minuto è come se giocasse veramente ogni minima finale con Conte quindi per questo io dico che per me Conte il Napoli e Conte vinceranno lo scudetto perché non hanno nient'altro in testa che il campionato non è il solito discorso di dire ma una competizione non è solo quello è proprio una questione proprio mentale che magari l'Europa da una parte ti può caricare ma abbiamo visto oggi la mia preoccupazione era che ci scaricasse mentalmente l'Ipsia per certi versi ci ha scaricato a livello di attenzione perché a livello di prestazione per me abbiamo fatto una buona prestazione ma a livello di attenzione e di concentrazione purtroppo ci siamo scaricati mentalmente e questo è questo è quindi ho visto appunto anche il Milan contro Fiorentina male male Morata male tutti male Leao male tutti quindi questo è per dirvi che ci sto male pure io tanto ci staremo male per queste due settimane qua per la non vittoria di oggi ma non disperare cioè giusto diciamo essere un po' preoccupati ci sta essere tristi tra virgolette delusi della non vittoria di oggi non della prestazione ma della non vittoria di oggi di qualche giocatore soprattutto sì qualche cambio discusso di diamo motta si può discutere però non catastrofismo ecco questo è il senso perché non vedo che dalle altre parti stiano viaggiando a ritmi forzennati ecco questo anche perché settima giornata il cantiere è ancora apertissimo il nostro e al di là delle prestazioni che siccome stanno migliorando di partita in partita comunque a livello di risultati due vittorie su due in Champions League e sei a meno tre dal primo posto cioè non è che sei a meno sette dal primo posto e hai vinto una partita e parigiato una partita e hai perso l'altra in Champions League capisci capite quello quello è il senso nonostante appunto sia una nuova era una nuova era speriamo che sia una nuova era positiva questo è buon ragazzi ditemi la vostra su tutto vi auguro buonanotte a tutti fino alla fine forza di eventos noi ci vediamo domani con il giorno dopo poi domani tra i tanti lavori dovrò anche riguardarmi un attimo un po' di spezzoni di partita di oggi il giorno dopo uscirà domani ai 10 poi a mezzogiorno sul canale youtube pandolino bianconero ci sarà la sua live con la rassegna stampa a mezzogiorno 45 sul canale youtube tridente bianconero caffè col tridente alle 18 sul mio canale Danio Orgoglio Gobbo l'analisi tattica ok di Juventus Cagliari e poi alle ore 21 sul canale Gianni Bianco ci sarà il processo della Juvenger questo è un po' il programma di domani dovrebbe essere ciao a tutti fino alla fine sempre comunque a forza Juventus saranno due settimane di merda due settimane di merda perché non l'abbiamo vinto oggi soprattutto però ci sta ragazzi siamo tifosi giusto non è che siamo per quanto mi riguarda non è che sono un cazzato ci stai male ci stai male quando non vinci soprattutto in questa maniera qui ci stai male sicuramente però dall'altra parte sei ottimista proprio perché hai visto una prestazione una prestazione che comunque ti ha portato a creare 4-5 palle gol nitide oggi oggi nitide di solito potenziali palle gol ma siamo lì siamo lì siamo sempre lì quindi manca veramente un qualcosa perché arne di più o comunque per fare gol quindi questo mi fa ben sperare dai guardiamo il lato positivo guardiamo il bicchiere mezzo pieno anche se tendo pure io oggi a guardarlo mezzo vuoto ma non perché non c'è futuro perché oggi è giusto essere delusi e quant'altro della non vittoria questo sicuramente va bene ma ripeto come l'ho già detto è uno step è uno step questi scivoloni serviranno per far tornare anche i giocatori sul pianeta terra e e soprattutto sono step che servono e questi scivoloni qua capiteranno ancora e ancora e ancora poi ovviamente all'inizio è così poi con andare al tempo si spera di no questo è l'inizio buona notte a tutti e ci vediamo domani